Sì, alla raccolta funghi, ma solo per chi abita nei comuni della zona rossa. Per gli altri il cestino rimarrà vuoto. Sono le regole dell'ordinanza emessa dal commissario straordinario nazionale per l'emergenza della peste suina africana Vincenzo Caputo che si legano ad una lunga serie di restrizioni che potrebbero dominare ancora per altri tre anni territori piemontesi e liguri. Nell'area off-limits e solo nell'Alessandrino ci sono oltre 100 comuni. Se chi abita per esempio a Genova volesse andare per funghi nella quese, non lo può fare. Chi invece è proprietario o anche solo affittuario di una casa in uno dei comuni toccati dal virus, sì. Lo scopo, come dice Caputo, sarebbe proprio quello di evitare di contaminare le zone ancora non infette con appunto la raccolta di prodotti dove invece la malattia c'è ancora. Ma se si è sempre detto che la peste suina non attacca esseri umani e animali, allora effettivamente il problema reale dove sta? Ciò che preoccupa è la contaminazione tramite le scarpe utilizzate durante l'attività, detto Giorgio Storace, capo gruppo del Gisca Alessandria. Si potrebbero adottare le precauzioni necessarie come fa chi abita nella zona rossa, quindi con guanti e sacchetti per le calzature, ma senza nessun sistema di controllo non si può fare affidamento solo al buon senso delle persone. Intanto per quanto riguarda la caccia è sempre tutto fermo. Mancano le risorse per finanziare i cacciatori che sarebbero gli unici che potrebbero fermare l'avanzamento del virus, ha continuato Storace. In effetti le uniche figure che ad oggi possono intervenire per l'abbattimento dei cinghiali sono i cosiddetti tutor, ovvero persone che sì, saranno anche formate, ma di certo non sono cacciatori. Anche per gli allevamenti dei suini è il buio più totale. La regione Piemonte aveva messo a disposizione dei fondi che però non sarebbero mai arrivati a destinazione. La prassi sarebbe questa. L'azienda deve prima sborsare una grossa somma per far ripartire la propria attività, quindi a sue spese, e poi magari dopo un anno o anche di più verrà rimborsata solo del 75%. Insomma, tante ordinanze, tante restrizioni, ma di fatto al momento sono ancora i cinghiali ad avere l'ultima parola.